Analisi grammaticale Ricordi la mensola della grammatica? Sono oggetti da osservare, toccare, ma da riporre sempre al loro posto. Il gioco dell'analisi grammaticale consiste nel mettere ogni parola nel contenitore giusto. Ora osserviamoli, cominciamo dal primo. Il primo è una presina, serve per afferrare le cose e contiene gli articoli che sono proprio davanti ai nomi, come se li afferrassero. Allora, noi abbiamo studiato due tipi di articoli. Gli articoli determinativi, il, lo, la, i, gli, le e gli articoli indeterminativi, un, uno, una. Vicino alla presina c'è il barattolo del nome. Qui dentro noi mettiamo tutti i nomi di cose, persone o animali. Ora proviamo a fare un esercizio. Cerchiamo di riconoscere gli articoli e i nomi in questa frase. Prima te la leggo. Un bambino lancia la palla verso gli amici, ma colpisce una signora che stava portando a spasso il cane. Prima dobbiamo sottolineare i nomi di rosso. I nomi quindi dobbiamo trovare persone, cose e animali. Allora, bambino, palla, amici, signora, cane. Adesso attenzione. Guardiamo se davanti a questi nomi c'è l'articolo. Davanti a bambino c'è un. Un bambino. Poi la palla. Gli amici. Una signora. Il cane. Ora inseriamo in tabella queste parole che abbiamo sottolineato. Vedete che dobbiamo distinguere gli articoli determinativi dagli indeterminativi e i nomi. Allora, un articolo indeterminativo. E bambino è il nome a cui si riferisce. L'articolo determinativo. Palla, il nome a cui si riferisce. Gli articolo determinativo. Amici, il nome a cui si riferisce. Una, articolo indeterminativo. Signora, il nome a cui si riferisce. Il articolo determinativo. Cane, il nome a cui si riferisce. Nel terzo barattolo troviamo gli aggettivi. Noi abbiamo studiato gli aggettivi qualificativi che ci spiegano come è il nome. Bello, brutto, giallo, grande, piccolo. E gli aggettivi possessivi che ci spiegano di chi è il nome. Mio, tuo, nostro, vostro, loro, proprio. Vi leggo la frase. Il mio gatto si nascose sotto il tuo cespuglio di rose rosse. Aveva il pelo ritto dallo spavento e dai polpastrelli rosa spuntavano le unghiette affilate. Ed ora un po' di esercizio. Cerchiamo di riconoscere gli aggettivi e i nomi. Prima cerchiamo il nome e poi l'aggettivo corrispondente. Il primo nome della frase è gatto. Com'è il gatto? Mio. Mio è l'aggettivo. Il nome successivo è cespuglio. Com'è il cespuglio? Tuo. Rose. Come sono le rose? Rosse. Aggettivo. Il prossimo nome è pelo. Com'è il pelo? Ritto. Aggettivo. Polpastrelli. Come sono i polpastrelli? Rosa. E poi unghiette. Come sono le unghiette? Affilate. Adesso dobbiamo mettere in tabella. Prima il nome. Gatto. Qual è il suo aggettivo? Mio. È un aggettivo possessivo. Perché spiega di chi è. Cespuglio. Com'è il cespuglio? Tuo. Perché spiega di chi è. Un aggettivo possessivo. Le rose sono rosse. Aggettivo qualificativo. Ci dice come sono le rose. Il pelo com'è? Ritto. Aggettivo qualificativo. I polpastrelli come sono? Rosa. Aggettivo qualificativo. E le unghiette sono affilate. Aggettivo qualificativo. Nel quarto barattolo troviamo i pronomi. I pronomi sono le parole che stanno al posto del nome. Noi per ora abbiamo studiato soltanto i pronomi personali che sono io, tu, egli, noi, voi, essi. Il quinto oggetto rappresenta i verbi. Vedete, c'è un uccellino per farci capire che c'è qualcosa che si muove perché i verbi sono le azioni. Dei verbi noi abbiamo studiato il modo indicativo. Del modo indicativo sappiamo i tempi semplici, che sono presente, imperfetto, passato remoto, futuro, e i tempi composti, passato prossimo, trapassato prossimo, trapassato remoto e futuro anteriore. Un po' di esercizio. Allora, leggiamo questa frase e cerchiamo di riconoscere prima di tutto i verbi e poi vedere se davanti al verbo c'è il pronome personale corrispondente. Il papà disse a Luca. Disse è il primo verbo. Indicando sua sorella. Indicando è un verbo. Lei esegue i compiti. Esegue è il verbo. E qui davanti al verbo c'è il pronome personale. Lei. Tu invece giochi. Il verbo è giochi. E il pronome personale è tu. Io penso. Penso è il verbo. Io il pronome personale. Che tu sarai punito. Sarai punito. Verbo. Tu pronome personale. Allora Luca corse alla scrivania. Corse, verbo. Qui non c'è il pronome personale. E aprì subito il libro. Aprì, verbo. Ora li mettiamo in tabella. Disse è il primo verbo. Indicando il secondo verbo. Esegue, verbo. E mettiamo il pronome personale lei davanti. Giochi. E il pronome personale è tu. Penso. E il pronome personale è io. Sarai punito. Pronome personale tu. Gli altri sono verbi da soli. saltiamo la casetta dell'avverbio perché non l'abbiamo ancora studiato. E invece ultimamente avete studiato le preposizioni. Quella scatolina arancione. Vi ricorderete sicuramente che le preposizioni sono di due tipi. preposizioni semplici. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Le preposizioni articolate sono formate da quelle semplici insieme agli articoli. Del, dello, della, dei, degli, delle. E lo stesso con a, con da, con in e con su. Ed eccoci al barattolino della colla. Questo contiene le congiunzioni. Le paroline che uniscono frasi o parole. E sono. E, anche, pure, ancora, perfino, neanche, ma, neppure, o, oppure, altrimenti, se, quindi, però, neanche, perché. E, sebbene, nonostante, infatti, cioè, perciò, mentre. E ce ne sono ancora delle altre, volendo. Adesso riguardiamo un po' tutto quello che abbiamo già studiato. Allora, all'inizio gli articoli determinativi e indeterminativi. Poi ci sono i nomi, cose, persone, animali, eccetera, comuni, propri. Poi, aggettivi, qualificativi e possessivi. Sono quelli che ci dicono come è il nome. I pronomi. Noi conosciamo solo i personali. Io, tu, egli, noi, voi, essi. I verbi, che sono le azioni. Le preposizioni, semplici e articolate. E le congiunzioni. Ora proviamo a fare l'analisi grammaticale di una frase. Che cosa significa analisi grammaticale? Significa mettere ogni parola che forma la frase nel contenitore giusto della nostra mensola. Ogni parola, vedrete, che lampeggerà per 5 secondi. In quei 5 secondi dovete pensare in quale contenitore dobbiamo metterla. Provate a dirlo. Poi vedrete che si sposta e controllate se avete detto giusto. Ok? Allora, cominciamo. Io va nei pronomi. Indosso. Indosso è un verbo. Verbo indossare. Una Una è un articolo, articolo indeterminativo. Camicia Camicia è un nome comune di cosa. Leggera Leggera è un aggettivo, ci spiega com'è la camicia. E E E Congiunzione unisce due frasi o due parole. Occhiali Occhiali sono una cosa, quindi è un nome. Da 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 è una preposizione semplice. Vi ricordate? Dia, da, in, con, su, eccetera, eccetera. Sole Sole è un nome di cosa. Perché? Perché è una congiunzione. Unisce Unisce Vado 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 è un verbo. Voce del verbo andare. Al 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 è una preposizione articolata, formata da A Il Mare Nome comune di cosa. Avete indovinato? Se no potete bloccare e riprovare. Analisi grammaticale possiamo farla anche utilizzando una tabella. Questa è la stessa frase di prima. Anche qui io leggo la parola, vi do un po' di tempo per decidere dove dobbiamo mettere la crocetta, in quale colonna. Cominciamo. Io Pronome Indosso Verbo Una Articolo Camicia Nome Leggera Aggettivo E Congiunzione Occhiali Nome Da Preposizione Sole Nome Perché Congiunzione Congiunzione Vado Verbo Al Preposizione Mare Nome 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 Nome